Bentornati su Flatsim Ita, il canale italiano interamente dedicato a Microsoft Flight Simulator. Nelle prime ore di questa notte è successo qualcosa di inaspettato, qualcosa che nessuno si sarebbe immaginato. Il nuovo Fly-by-Wire A380, previsto per il rilascio ufficiale il 31 ottobre, è trapelato online. Sì, avete capito bene, qualcosa o qualcuno all'interno del team di sviluppo di Fly-by-Wire sembra essersi lasciato sfuggire il progetto e ora l'iconico A380 sta volando incontrollato sul web nelle mani di centinaia di utenti. In pochi minuti la situazione è sfuggita di mano e una copia dell'A380 è stata caricata online e subito dopo è diventata virale. Decine, centinaia, ancora non si sa bene il numero di appassionati di simulazione di volo hanno scaricato la versione trapelata e si sono lanciati nei cieli a bordo del colosso dell'aviazione ben prima della data di rilascio prevista appunto per il 31 ottobre. I radar di Vatsim insieme a Vatsim Radar si sono rapidamente popolati questa notte di utenti che già pilotavano l'A380 della Fly-by-Wire, pargendo quindi un'ondata di caos e curiosità tra tutti i membri della community. Non sono mancate chiaramente le live streaming su Twitch e su YouTube. Piccoli streamer in cerca di visibilità e adrenalina hanno colto l'occasione per mostrare a tutto il mondo questo aereo rubato in modo da attrarre spettatori e far vedere di essere i primi a poterlo provare. I social chiaramente sono impazziti alimentando ulteriormente la fuga e rendendo il controllo della situazione praticamente impossibile. Mentre sto registrando questo video Fly-by-Wire non ha rilasciato però alcuna dichiarazione ufficiale. Il team è rimasto in silenzio come se fosse stato colto di sorpresa e stesse cercando di capire come muoversi. Ma cosa potrebbe essere successo? Un errore tecnico? Una distrazione fatale? O addirittura un insider che direttamente dall'interno ha deciso di rilasciare il progetto? Per ora nessuno lo sa. Il mistero rimane fitto e la community attende chiaramente un segnale, un messaggio o comunque qualcosa che faccia luce su questo incredibile imprevisto. Ora le possibilità sono due. Fly-by-Wire potrebbe decidere di rilasciare ufficialmente la 380 prima del 31 ottobre ammettendo quanto accaduto e spiegando la situazione. Oppure potrebbe scegliere di mantenere il silenzio e rispettare la data di rilascio inizialmente prevista. Un po' come se nulla fosse successo. Ma con la replica dell'A380 già così enormemente diffusa quest'ultima opzione sembra essere sempre più difficile. Dopotutto come far finta di niente quando centinaia di utenti stanno già volando con una versione fantasma del loro attesissimo progetto? Questo è uno di quei momenti che potrebbe davvero lasciare un segno indelebile nella storia. Le implicazioni sono tante e la tensione è palpabile. Se Fly-by-Wire farà una mossa sarà sicuramente nelle prossime ore. Nel frattempo se ci saranno novità o aggiornamenti io sarò qui per comunicarveli in tempo reale. Quindi restate connessi e se non volete perdere i prossimi aggiornamenti iscrivetevi al canale che la situazione potrebbe evolvere da un momento all'altro. E ciò che attualmente è incerto nelle prossime ore potrebbe avere una spiegazione ufficiale. Cosa farà Fly-by-Wire? Perderà il controllo di questo lancio o saprà gestire la crisi? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io vi saluto ci vediamo al prossimo aggiornamento e mi raccomando fati bravi.